Il 22 di dicembre prossimo ci sarà un'inaugurazione a Fondi Icaterino, siamo con i due titolari Giovanni e Luigi. Giovanni, questo salone che state per aprire cosa offrirà? Sarà un centro benessere in tutti gli effetti con molte novità. Abbiamo inserito in questo centro benessere la luce pulsata alta frequenza per la depilazione definitiva, ci sarà una doccia solare alta pressione, nuova tecnologia per una bronzatura più duratura e lavaggi con l'idromassaggio shatsu. Ci saranno molte novità anche a livello taglio moda, collezione moda, massimo aggiornamento, professionalità, troverete da noi. Ci sarà un'inaugurazione in grande stile immagino domenica. Ci saranno ospiti a sorpresa da uomini e donne, ragazze immagini per l'aperitivo che partiremo alle sei e mezza. Domenica 22 dicembre dalle ore 18 e 30 Icaterino, parrucchieri e beauty... Vi aspettiamo tutti!